ma non ci credo a niente sti cosa non è vero non credo a niente vero io credo solo signor perché il signore è che mi sa no perché anni fa mio padre raccontò come nacque l'idea di questi fantasmi eccomi a voi non capirò un bel niente ma non credo ai fantasmi questo è tutto ora è un parente ci mettiamo in lutto e aspettiamo il fantasma del parente se ci credete li vedete voi io dico che i fantasmi siamo noi lo siamo quando non vogliamo credere che una realtà ci annienta anzi ci schiaccia ne consegue che per salvare la faccia crediamo in tutto quello che può illudere i fantasmi li vede chi ci crede e pasquale l'oiacono li vede il benessere di natura equivoca che gli raccoglie in casa soldi beni per lui sono risorse ultraterreni e si costruisce una coscienza civica se siamo una moglie bella è necessario credere nei fantasmi su il sipario e 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 Grazie a tutti.